L'abbraccio di tutta la squadra fa piacere perché è una squadra unita, una squadra che ha raggiunto un obiettivo importante in una settimana che ci sono state delle polemiche, delle problematiche, quindi ognuno si sentiva magari nervoso sicuramente si sentiva nervoso, si sa che Davide comunque il mister è un tipo un po' schivo e se non c'è stato l'abbraccio a lui non la vedo come una sfida o assolutamente, lui è un tipo che anzi nella vittoria non esulta mai e questo l'abbiamo notato tante volte, quindi andiamo avanti, l'importante era raggiungere un obiettivo profissato siamo partiti giovedì per preparare bene questa partita, l'abbiamo preparata e adesso inizia un po' il nostro campionato c'è da domenica il girone di ritorno, sappiamo che è difficile però possiamo giocarci alle nostre carte come l'abbiamo dimostrato oggi sì doveva esserci lui però ripeto dopo questa settimana di nervosismo ha preferito non parlare quindi adesso è in viaggio, ci sentiremo e vedremo cosa fare, ripeto non posso rispondere a questa domanda perché devo sentire il Presidente e coordinarmi con lui grazie